ciao a tutti come potete sentire c'è un po di vento e abbiamo fatto una caccia al tesoro dobbiamo ci è stato proposto di fare una caccia a tesoro in questa caccia a tesoro dobbiamo stare attenti ai mostri di che ci possono inseguire quindi fate attenzione dobbiamo cercare nella sabbia nella sabbia sì che cos'è questa e quindi ok dobbiamo cercare le bustine le bustine che dobbiamo cercare ok partiamo partiamo da destra fammi vedere garien che brutti mostri pure questo uccello col becco rosa come si chiama questa opila come potete vedere sono adatti bambini superiori ai tre anni si da tre anni in su e si possono trovare in edicola pronti per la seconda bustina vediamo un po io vedo qualcosina qui cerchiamo la seconda è stata trovata adesso dobbiamo cercarne ancora altre vediamo un po qua non c'è niente vediamo ancora più avanti cosa hai visto è la terza e trovo io forse sarà in acqua qualche altra bustina vediamo non ci sono come non ci sono? è stata ritrovata un'altra bustina iniziamo ad aprire ok? iniziamo ad aprirle aspetta ad Alfonso gli è uscito quello che abbiamo detto opi la board vediamo sono anche delle carte le carte vediamo un po' che belle ma forse queste sono per fare il gioco quello la così e cercare due carte uguali o no? vabbè dopo leggiamo meglio all'interno Mattia apre la sua bustina la veduta non facciamo volare le carte però il giochino a te qual è uscito? appoggia sull'asciugamano la dei carte ops c'era un mostro attaccato sul braccio di Mattia chi è? di chi è? il bianco come si chiama? io non li conosco il bambalena questo è bambalena allora ripetetemi ripetetemi i nomi il bianco e bambalena e l'uccello o pila board vai Alfonso con l'altra bustina allora è il terzo che trovo terzo e poi abbiamo trovato due di questi due di quelli ma perché io ce l'ho? perché io ce l'ho qui? abbiamo visto poi questo come si chiama? eh? non lo sappiamo come si chiama va bene jumbo josh jumbo josh jumbo josh vedete? quanto sono brutti apri vedo vivo le carte e continuo a sbagliare si opi la board opi la board si il doppione si va bene e che giochino ti è uscito? mattia sbircia sbircia si vediamo un po' vediamo la lobata come si chiama? io non lo so questi sono i personaggi che abbiamo trovato questi sono i miei si questi sono i personaggi che abbiamo trovato dalle bustine ma dobbiamo continuare questa caccia al tesoro dobbiamo dovete farci sapere nei messaggi se vi è piaciuto questo video dovete lasciare 10.000 like 5.000 no 100.000 like 7.000 like ha giudicato allora 7.000 like a questo video e dovete condividere questo video con i vostri amici e in più dobbiamo continuare a fare altre caccia al tesoro come queste? si guardano bambam è tutto iscrivetevi al canale se non siete iscritti lasciate like attivate la campanellina ciao 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 Grazie.